Salve a tutti ragazzi questo è un nuovo video in questa nuova guida vedremo come allenare come aumentare l'abilità recupero beh come tutti sanno l'abilità recupero è quella la che ci consente o di curare o di fare la barriera della difesa e ora vedremo allora per prima cosa mettete tra i preferiti oppure già equipaggiatelo l'abilità recupero ed equilibrium allora equilibrium equilibrium se non sapete dove trovarla io non l'ho trovata nei negozi non si riesce a trovare dentro i negozi all'interno dei maghi di corte non la vende nessuno la potete trovare in una missione nella missione della gilda dei maghi per l'accademia di winter allora intanto vi spiego come funziona per prima cosa cosa fa equilibrium vi leva la vita vi toglie la vita e vi aumenta la magica quindi voi tenendo premuto il tasto per equilibrium continuerete a levare la vita però intanto con l'abilità cura rapida vi curerete in modo tale che la magica si rigenera sempre e anche la vita in modo tale così l'abilità recupero aumenti avete visto? quindi vi stavo dicendo equilibrio è un libro che si trova all'interno di una grotta l'abbè il labirinto che è una delle missioni che potete fare se iniziate le quest appunto dell'accademia di winterold se non sapete oppure l'avete fatta quella missione ma il libro non l'avete trovato se volete me lo chiedete io faccio il video specifico entro nella grotta e vi faccio vedere il posto esatto dove trovare il libro della magia equilibrium ok? va bene avete capito come funziona come aumentare l'abilità recupero e al prossimo video ciao 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 ciao